Rientrata l'emergenza, rifiuti in città, già da questa mattina la maggior parte dei cassonetti sono stati svuotati dalla spazzatura accumulatasi in questi giorni dopo la scadenza della proroga di conferire i rifiuti a Siculiani in attesa di nuove disposizioni da parte della regione. Gli operatori ecologici di Caltambiente, infatti già da ieri sera, si sono messi al lavoro per ripulire la città. Qualche cassonetto ancora traboccante di immondizie è rimasto nelle zone periferiche, come nel caso di Via Due Fontane, mentre quelli del centro storico e delle vie principali sono stati svuotati. Entro venerdì comunque tutti i cassonetti saranno ripuliti. Crisi dei rifiuti che ha interessato non solo Caltanissetta ma tutta l'isola, che è stata risolta dopo il via libera del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che ha avvidimato l'ordinanza della regione autorizzandola a riaprire le discariche chiuse per scadenza dei termini. Raccolta differenziata, piano rifiuti e termovalorizzatori sono le priorità individuate dalla regione. Restano chiuse le discariche di Siculiana e Gela, una situazione che ha costretto un centinaio di comuni a traslocare con lunghe file di camion e disagio all'ingresso delle discariche individuate, che dovranno ora smaltire le 1200 tonnellate di immondizia che giornalmente finivano nei due impianti non più funzionanti, mentre monta la protesta dei sindaci per l'aumento dei costi. Da oggi e sin al 30 novembre, dunque, i rifiuti del Nisseno saranno conferiti nella discarica valanghe d'inverno della ditta Oikos a Mister Bianco. Una disposizione che comporterà un aumento dei costi di trasferimento del 25-30%, riflettendosi di conseguenza sugli utenti con un aumento della Tari, così come ha affermato il sindaco Giovanni Ruvolo, che abbiamo raggiunto telefonicamente, il quale ha invitato i Nisseni a incentivare la raccolta differenziata. L'ordinanza della Regione, detta a tempi stretti per i comuni, entro il 7 luglio le SRR dovranno indire le gare per la gestione dei rifiuti, bene il commissariamento, mentre sul fronte della differenziata gli enti sono obbligati ad un aumento del 3% entro il 30 agosto ed un ulteriore 3% entro il 30 novembre. Ogni comune, inoltre, entro il 15 luglio dovrà adottare un regolamento per la differenziata e se non lo farà provvederà la Regione con un regolamento tipo Le difficoltà nella gestione dei rifiuti e l'aumento dei costi di trasferimento, i tagli dei governi agli enti che rischiano di provocare un dissesto finanziario, saranno al centro della conferenza dei sintesi convocata dal primo cittadino Giovanni Ruvolo, venerdì 10 giugno a Palazzo del Carmine.